Semola rimacinata di grano duro apula lucano, olio extravergine di oliva, frutta candita, arance, cedro, uva sultanina, burro di cacao, burro di affioramento, miele, glassa e ancora zucchero, mandorle di toritto e nocciole delle langhe. Una delizia che a Natale, nella caffetteria del Viale ad Altamura, prende il nome di pan santo. Non è un panettone, ma, come ci spiega l'ideatore di questo prodotto unico al mondo, Vincenzo Benvenuto, molto di più. Un dolce tipico natalizio che soltanto ad Altamura, nella sua pasticceria, è possibile trovare. E siamo pronti a scommettere che presto farà il giro del mondo. Non è solo il sapore a rendere unico il pan santo. Tutto, infatti, parte dagli ingredienti. È consigliato in particolare a coloro che hanno qualche problema con l'indice glicemico elevato. Insomma, l'artigiano del gusto, che ha imparato a fare questo mestiere all'età di otto anni e che continua a farlo con passione, ha inventato un panettone di casa nostra davvero speciale. Il tutto parte da un esperimento che Vincenzo Benvenuto, insieme con il suo più stretto collaboratore, volle fare. Provarono insieme a impastare la semola con l'acqua, lasciandola acidificare e creando la cosiddetta crescenza madre, che poi è diventata la base di ogni prodotto di pasticceria lievitata. Ed è così che Vincenzo Benvenuto ha deciso di trascorrere molte notti insonni per continui esperimenti, prima di arrivare al capolavoro del pan santo. Un prodotto che si aggiunge a tante altre prelibatezze natalizie che in questo periodo si continuano a sfornare nel suo laboratorio, come ad esempio la corona di Federico o le arance ricoperte di cioccolato, passando per i torroni preparati artigianalmente. Insomma, Natale sì, ma senza dimenticare il gusto e la salute. Una rimacinata che ha due proteine, una di cocco, ha una digeribilità molto alta, contiene carotenoidi all'interno che si vedono perché è più gialla, sono gli antiossidanti, che si sono all'interno, l'aggiunta poi nell'impasto di olio extravergine che contiene altri antiossidanti all'interno, dunque è un prodotto di altissima qualità per i palati più esigenti. È un incrocio tra il panettone milanese e il pane di Altamura perché è fatto con la stessa farina che si produce il pane di Altamura e per noi è l'oro giallo del territorio perché la rimacinata nasce in questa zona e nel passato era considerata anche un prodotto non di eccellenza, ma oggi i nutrizionisti, chi del settore ha riscoperto questo prodotto qua.